L'estate almeno sul calendario è finita, però le belle giornali inducono i turisti a stare ancora sul lago d'Orta, perché possiamo dire davvero che l'estate, quella meteorologica e quella turistica invece non è affatto finita. È stata una bella stagione questa, Presidente? Beh, indubbiamente dobbiamo dire di sì, insomma, una buona stagione, magari sarà una stagione record, adesso io non lo so, le presenze non le ho ancora in mano, però vedendo gli ultimi dati delle nostre aziende, e anche alcuni di Orta, quelli che sono con noi nell'unione turistica, soprattutto i dati dei campeggi sono molto, molto positivi, e devo dire anche quello, perché con questo nuovo turismo dei camper si sta sviluppando in un modo esponenziale. Poi anche adesso gli alberghi sono abbastanza pieni, c'è il turismo, ci sono tanti inglesi sul lago d'Orta, anche sul lago Maggiore, devo dire, e il tempo fortunatamente è tornato ancora bello, quindi in voglia rimanere. Però anche gli italiani ne abbiamo avuto, tanti di italiani. Questa è una cosa che lei ha sempre detto e ci ha sempre ricordato, non bisogna mai fermarsi sugli allori, ma pensare sempre al futuro. Le stagioni, insomma, la vita va avanti e bisogna prepararsi. Voi in che modo vi state preparando, perché in qualche modo lo state già facendo, alle prossime stagioni, con le fiere in modo particolare ci sembra? Noi ci stiamo preparando già per il 2018. Pasqua è abbastanza presto, è il primo aprile, quindi si inizierà molto presto e speriamo di avere una stagione molto lunga. Poi il tempo, se il tempo ci aiuti, il tempo è importante qui sui laghi. Io mi ricordo degli anni 80, gli anni 90, che magari un mese di maggio pioveva 25 giorni, settembre pioveva sempre. Beh, adesso abbiamo in mente di fare qualche fiera, di tornare alla Choron-sur-Son, che è gemellato con Novara, quindi ci conoscono, conoscono il territorio. Vogliamo andare ancora in Svizzera o San Gallo, magari in Zurigo, che è più importante di San Gallo in questo momento. Sempre una fiera turistica e lì facciamo una buona comunicazione, perché i svizzeri sono importanti. Poi vediamo, vediamo dove va la regione Piemonte e ci possiamo aggregare anche noi. Grazie. Grazie.